Buongiorno, siamo con il professor Anton Giulio De Robertis. Do quindi il benvenuto ad Anton Giulio, grande amico e maestro fin dalla mia giovinezza a Roma, professore universitario, come dicevo, di storia dei trattati e politica internazionale, e uno dei massimi esperti italiani di politica estera, relazioni internazionali e storia della diplomazia. Carissimo Anton Giulio, so che attualmente il tuo interesse è principalmente indirizzato alla crisi del cosiddetto liberal international order, di cui spero ci parlerai tra poco, ma con quale dei tuoi molteplici interessi e titoli, per non parlare poi dei tanti incarichi che hai avuto e che hai in Italia e all'estero, ti piace presentarti ai nostri amici di Facebook e di YouTube? Io direi, guarda, come presidente di questo centro mediterraneo di studi geopolitici e strategici, che abbiamo costituito qui a Roma, d'intesa con alcuni colleghi esperti appunto di materie internazionalistiche e di problemi della sicurezza. Bene, senti, tu vivi attualmente a Roma, però sei stato professore ordinario all'Università di Bari e hai fatto lunghi soggiorni di docenze e di studio all'estero. Perché i nostri ascoltatori e spettatori possano cominciare a conoscerti meglio, insomma? Ti va di parlarci delle tue radici familiari, delle scelte che hai fatto relativamente ai tuoi studi e le scelte che poi hai fatto relativamente alla carriera universitaria e non solo. No, molto volentieri. Guarda, io vengo da una famiglia di giuristi, giuristi che, una famiglia in cui ci sono stati giuristi ininterrottamente a partire dal 1742. Ma, 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 a che ora? Eh? A che ora? Ma, ma, a che ora? Sei molto preciso. C'è stato, diciamo, il primo studio di notaio aperto da Andrea De Robertis a Bitonto. Allora, era una delle due maggiori, diciamo, città della Puglia, insieme ad Altamura e Bitonto, erano le due maggiori città della Puglia. Quindi, a Bitonto, questo mio antenato ha aperto questo studio di notaio, dopo essere stato cacciato per vicende legate all'esito della guerra di successione spagnola di quel periodo, e da quel momento in poi c'è stato quasi o sempre ininterrottamente un giurista, o più di un giurista, in provincia di Bari, con il nome di De Robertis. Ricordiamolo, De minuscolo. De minuscolo, apostrofo. Eppure con l'apostrofo. Robertis, esatto. Cazzo, questo aggiunge l'ustro. E' l'origine della cacciata dalla diplomazia spagnola che si batteva con quella austrieca asburgica, come sai, in quel periodo. Comunque, diciamo così, questo mio antenato si dovette rifugiare in Puglia e quindi poi i suoi discendenti si sono messi a fare i giuristi con un certo, direi, successo e di una certa, come direi, autocompiacimento di esserlo. Questo lo posso dire. La Puglia è bella e buona come regione anche per aver dato ospitalità a De Robertis. Oltre che a De Robertis, c'è da dire che una tradizione di studi giuridici in Puglia è sempre esistita. Faccio solo riferimento, ma adesso poi cambiamo discorso rapidamente, alle costituzioni tranetine a cavallo tra l'XI e XI secolo, insomma. Quindi, vuol dire, in Puglia il diritto è sempre stato coltivato con un certo impegno. Bene. Senti, puoi brevemente spiegarci cosa sia e in cosa consista la storia della diplomazia e in particolare quali differenze ci siano tra l'attività della diplomazia in tempo di pace e le attività della diplomazia in tempo di guerra? Perché naturalmente la diplomazia vive in tutti e due i periodi. A questo proposito sarà interessante che io vi riferisca a una battuta di uno dei grandi ambasciatori che abbiamo avuto nel passato, l'ambasciatore Luciolli, il quale durante una conversazione che stavamo avendo nel quadro delle attività del Comitato Atlantico ebbe a dire che durante la guerra per la diplomazia è come se avesse preso una sbornia, se fosse ubriaca, perché durante la guerra alla diplomazia cadono tutti i freni inibitori e durante una guerra la diplomazia, ipotizzando la vittoria della parte che rappresenta, mostra e manifesta tutte quelle che sono le sue ambizioni, anche le più spinte, cosa che naturalmente il tempo di pace non si fa perché bisogna mantenere dei rapporti equilibrati anche con le controparti. Quando le controparti sono nemici contro i quali si combatte, si dice tutto quello che si vuole, insomma, si esprime tutto quello che si vorrebbe. Interessante questa… Questa è la differenza tra la diplomazia bellica e la diplomazia, diciamo… Diplomazia di pace siamo sobri, diplomazia bellica siamo sbronzi, detto così in termini magari non scientifici. Però ecco, sto per indicare che durante la diplomazia bellica non ci sono quelle ipotisie e tutte quelle dissimulazioni che invece sono proprie della diplomazia in tempo di pace. Ma una cosa che mi ha sempre affascinato relativamente al linguaggio diplomatico è per esempio ai tempi dell'Unione Sovietica, ai tempi della Guerra Fredda e così via, che c'era tutta una terminologia che andava decodificata. Faccio un esempio, tu correggimi naturalmente se sbaglio. Le due controparti, sovietici e americani, hanno avuto un colloquio franco. Questo colloquio franco voleva dire che se ne erano dette di tutti i colori, per così dire. Se ne erano dette, pare. C'è stato un ampio chiarimento delle reciproche vedute, che voleva dire che le posizioni sono distantissime tra di loro, però si continua a parlare. È così? È appunto così, sì, certo. Direi che però l'utilizzo di questi aggettivi per significare lo stato dei rapporti forse non è cessato, insomma. Tuttora questi aggettivi indicano questo. Per esempio, se si dovesse riferire l'esito di una conversazione, di un confronto in questo momento tra francesi e turchi, certo la parola franco non potrebbe mancare naturalmente. Certamente. Mi fa venire in mente che l'utilizzo di una terminologia, tra virgolette, diplomatica, specifica, potrebbe essere utile anche nei conflitti familiari, nelle liti tra amanti, tra barri e mogli. Diciamo che la terminologia diplomatica è anche frutto di un affinamento, di una tempera che si è sviluppata anche attraverso i secoli presso questa collaborazione, diciamo, dei diplomatici. Che questo possa essere anche recepito a livello familiare mi sembra un po' più difficile, ma comunque è sempre auspicabile. Ci proveremo. Senti, invece vorrei tornare al tuo interesse prevalente attuale, la crisi, cosiddetta crisi, del cosiddetto liberal international offer. Ci puoi spiegare brevemente in che situazione? Molto sinteticamente. In questo momento, sulla maggior parte dei media occidentali, c'è uno strapparsi le vesti per il fatto che il liberal international order, il cui vigore sarebbe stato assicurato dagli Stati Uniti, secondo quello che viene detto in questi testi, negli ultimi 70 anni, sarebbe in crisi e minacciato per l'esistenza delle potenze che vengono definite il liberal democracies, le quali naturalmente non si riconoscerebbero nei principi di questo liberal international order. Però il discorso è molto complesso. Ti dico in due parole, perché altrimenti dovremmo stare un paio d'ore a chiarire il concetto, che l'ordine internazionale che è stato osservato tra il 1945 o comunque il 1948, insomma, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e il 1991, cioè il liberalismo di questo ordine, osservato in questo periodo, durante la Guerra Fredda, è cosa assolutamente diversa da quello che si è dichiarato essere ancora in vigore dopo la fine della Guerra Fredda. In particolare, preciso, indicare la fine della Guerra Fredda è un punto di riferimento molto chiaro e molto facile da capire, ma quello che veramente ha sovvertito, secondo me, l'ordine liberale che era stato in vigore fino a quel momento è stata la presidenza Clinton, il quale Clinton, con lo slogan che ha adottato per, diciamo così, lanciare la sua presidenza, Democratic Enlargement, ha iniziato tutta una serie di politiche che con il liberalismo classico avevano poco a che fare. A cominciare dal fatto che il liberalismo classico sanciva il principio del rispetto della sovranità degli stati, e io mi ricordo che quando ho fatto io l'esame di diritto internazionale nella facoltà di giurisprudenza, il principio della intangibilità della domestic jurisdiction era il cardine di tutto il sistema di rapporti internazionali. Con Clinton questo entra in crisi totalmente, come anche il rifiuto della violenza, dell'uso delle armi per imporre la propria volontà, eccetera. Con Clinton comincia tutta una politica da parte degli Stati Uniti che secondo me di liberale non ha più nulla. Per cui il problema vero è quello, secondo me, di ripristinare i valori del liberalismo classico e non approfittare del fatto che questo termine liberal è stato usato, adottato dai progressisti dell'East Coast New Yorkesi e Company, diciamo a partire dagli anni Sessanta, eccetera, dando a questa parola però un significato, un contenuto completamente diverso da quello che era il significato del liberalismo classico e del liberalismo europeo. Vorrei ora passare a un'altra cosa. Qual è la tua idea attualmente sulle teorie relative al cosiddetto nuovo ordine mondiale? Ma appunto questo è il concetto. Un nuovo ordine mondiale sarebbe possibile se, voglio essere ancora più preciso, di questo nuovo ordine mondiale si è parlato in maniera molto concreta, nel senso che vi era un'intenzione di porlo in essere, tra Bush padre e Gorbachev, nel momento in cui si poneva fine alla Guerra Fredda. Essi indicavano alcuni principi, che erano i principi, come dire, di riaffermazione forte dei valori del liberalismo classico, che questi due paesi, Stati Uniti e Unione Sovietica, dichiaravano di accettare e di cui affermavano di volersi fare promotori. Io ricorderò addirittura, cosa che nessuno ricorda più, che addirittura dopo la conversazione con Gorbachev a Malta, nel dicembre dell'89, Bush va a Bruxelles, dove incontra il Consiglio Atlantico, e parla della necessità di concepire un nuovo atlanticismo. Cioè, diciamo che i termini della, chiamiamola resa, se vogliamo chiamarla tale, dell'Unione Sovietica nella Guerra Fredda, erano termini che implicavano l'adozione di un metodo di gestione degli affari internazionali concordato fra i due, e poi naturalmente anche con il resto del sistema internazionale. Tutto questo, con Clinton, viene completamente dimenticato e abbandonato. E questo è un fatto, secondo me, molto grave. E' importante che tu ce lo stia facendo giustamente notare e ricordare. Un'altra domanda, quale ruolo ritieni che possa giocare l'Unione Europea, oggi come oggi, nei riguardi di Brics, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, i grossi paesi, come dire, emergenti? E' questa domanda. Tra l'altro, anzi, emersi più che emergenti. Come l'hai chiesto prima, io, tempo fa, è sparito, vabbè, non fa niente. Ah, eccolo. Dunque, io, tempo fa, ho pubblicato un libro che ha questo titolo. Ah, La Russia, i Brics e l'Ordine Internazionale. Anton Giulio De Robertis. Faccelo vedere tutto, un po' più a distanza. A distanza, a distanza. Allontanalo. 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 Di più? Di più? Così vediamo la copertina per intero. Di più? Perfetto. Chi sono i personaggi nella foto? I personaggi nella foto sono, naturalmente, Putin, Modi, Xi Jinping, il presidente del Sudafrica e, purtroppo, dico purtroppo perché, come sapete, è stata rimossa, o comunque non è più tale, la presidente del Brasile. Sono, praticamente, i cinque stati che hanno dato vita ai Brics. E' una cosa che tu mi dici, hai fatto bene a chiedermi dei Brics, perché il punto è questo, che finora, anche in sede ONU, l'Occidente si è scontrato con i Brics, i quali rifiutavano questa nuova interpretazione, diciamo così, del liberismo adottata da Clinton e dai suoi successori, e rivendicavano il ritorno o comunque il mantenimento del rispetto dei principi del liberalismo classico, su cui, tra l'altro, si fonda lo statuto dell'ONU. E questa è una cosa di cui sarebbe bene tener conto quando tu parli dell'Unione Europea, perché questi Brics rappresentano la metà dell'umanità e anche ormai della ricchezza dell'umanità. Quindi non possiamo illuderci che i nostri valori e le nostre definizioni valgano per tutti. Faremo bene a riflettere su quali possono essere delle definizioni, come dire, che troviano tutti d'accordo, che siano comuni. E questo è piuttosto importante, secondo me. Potresti ora delinearci in breve, naturalmente, la tua visione delle principali questioni internazionali che il mondo si può affrontare con la nuova presidenza americana. Ma intanto, dunque, guarda, la nuova presidenza americana ha dichiarato di voler ritornare al rispetto del multilateralismo. L'essenza del multilateralismo è il rispetto dei meccanismi dell'ONU, perché la genese del multilateralismo sta nell'ONU e nelle organizzazioni internazionali regionali, che l'ONU, fin dalla sua prima attività, ha dichiarato come auspicabili e come utili ai fini di rendere più puntuale quella cooperazione multilaterale che esso stesso o uno rappresentava a livello globale. Cioè, era un modo per l'ONU di trasferire anche nella dimensione regionale quel multilateralismo che era stato affermato a livello globale, mediante la sua creazione. L'Unione Europea, quando è nata, è nata sulla base dell'accettazione di questo principio, è sull'accettazione dei principi del multilateralismo. Durante la sua vita, secondo me, ha cambiato un po' impostazione. E anche in questo, a mio avviso, sarebbe bene che anche l'Europa riscoprisse questa sua impostazione iniziale. Bene, senti, e quale futuro, brevemente, vedi sia sul piano nazionale che su quello internazionale? Guarda, l'Italia, se non riesce a darsi una classe politica competente e in grado di riscuotere non solo la fiducia dei cittadini, ma anche la fiducia degli interlocutori, cioè degli altri paesi, penso che avrà molta difficoltà ad affermarsi a livello internazionale. Mamma mamma! Ma la tempora currunt è ancora di più, correranno allora? Vabbè, grazie Alton Giulio. Tutto questo ci ha permesso di inquadrare la tua figura accademica e professionale come uomo pubblico, però tu sai che io sono una persona curiosa, non un tipo curioso, sono una persona curiosa. Ti va di parlarci ora di te come persona, diciamo così, normale, anche se sicuramente molto speciale, e di come hai affrontato le varie frasi del percorso della tua vita, quindi gli studi, il lavoro, gli amori, la famiglia, un piede a Roma, un piede a Bari, tutti e due occasionalmente da qualche altra parte del mondo? Beh, dunque, io quando ho cominciato a pensare ad una mia vita professionale, venendo da una famiglia di giuristi, pensavo di fare il giudice. E ho studiato nella facoltà di giurisprudenza, in un certo senso direi da giudice, fino al momento in cui mi è capitato di studiare il diritto internazionale su un testo di Rolando Quadri, tra l'altro, un grande internazionalista purtroppo scomparso, che aveva la cattedra però a Napoli, non a Bari. Però la sua scuola naturalmente si espandeva anche al di là di Napoli. Pensi che diranno anche di noi quando sarà il momento purtroppo scomparso? Ma purtroppo scomparso forse sì, non pretendo che lo dicano con lo stesso spirito con cui lo sto dicendo del grande Rolando Quadri, ma questo per un fatto molto semplice, perché una volta il professore ordinario veniva definito, come dire, in maniera molto critica come barone, ma sostanzialmente era un personaggio che aveva dei caratteri sia di ricchezza intellettuale che di ricchezza umana, che lo ponevano su un certo piedistallo. Purtroppo tutte queste qualità, col passare del tempo, si sono diluite enormemente. Perché queste qualità non sono solo frutto della natura della persona, ma sono anche il frutto del contesto in cui questa persona viene ad operare. Per cui nel momento stesso in cui siamo passati, secondo una battuta, adesso il discorso sarebbe lungo, ma insomma c'era un politologo molto autorevole da noi che una volta, parlando del 68, disse che con il 68 siamo passati dalla reverent society alla society contestante, alla contestant society. E quindi naturalmente si è perso quel senso di rispetto che consentiva anche alle persone di crescere in una certa dimensione. Verissimo, verissimo. Senti, qual è attualmente, qual è stata, qual è attualmente, quale riconosci che sia stata, sia la vera passione della tua vita? Beh, questo è difficile da dire. Sieni conto di questo, che... Se hai una moglie nei dintorni ti ho già suggerito la risposta. No, 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 mia moglie non è nei dintorni, ma a parte mia moglie, che naturalmente io ho conosciuto a 31-32 anni, quindi diciamo in età già abbastanza avanzata. Ma quello che ha cambiato un po' il mio approccio rispetto al mondo e anche mi ha spinto, se vuoi, è stato uno dei fattori che mi ha spinto ad abbandonare il progetto di fare il giudice e ad adottare invece il progetto di fare, diciamo, l'internazionalista, cioè lo studioso di politica internazionale, di storia diplomatica, è stato il fatto che proprio durante il periodo in cui noi siamo più liberi durante la nostra vita, se siamo delle persone che comunque vogliono studiare, vogliono prepararsi professionalmente, eccetera, eccetera, è il periodo che va dalla licenza liceale al primo esame che si fa all'università. Perché la licenza liceale la si prende praticamente, se va bene, naturalmente come si presume a giugno, e il primo esame si fa l'anno successivo, nel giugno successivo. Quindi c'è un lungo periodo in cui praticamente si può... darsi... Non si hanno scadenze troppo ravvicinate. Esatto, per cui uno si può occupare di quello che gli può piacere. E io proprio in quell'anno, vi devo dire, ho scoperto alcuni autori come Jung e Proust. Jung, ma questa è concorrenza sleale, professore. Anche tu fai gli angeli di questi... Allora ti dicevo, Jung e Proust. Proust praticamente mi ha talmente affascinato che io mi sono letto, e ogni tanto c'è intorno, tutti e sette i volumi della ricerca del tempo perduto. Mamma mamma! E allora che hai cominciato a dare i capelli bianchi? No, ma è allora che ho concepito l'idea di darmi agli studi internazionalistici per girare il mondo, per vedere allora, allora, diciamo, il mio luminosum era Parigi, come tu puoi immaginare, dove chiaramente è stata una delle mie prime mete, dove ho fatto alcune ricerche, che ho scritto... Quindi non tanto il vedere luoghi nuovi, quanto il vedere con occhi nuovi, la realtà che ci circonda. Certo, certo. Senti, e come quanto le tue attività accademiche, non solo, hanno fatto la qualità della tua vita affettiva e familiare? Ma vedi, io insisto nel dirti questo, che io sono arrivato a conoscere mia moglie e quindi ad avviare la mia vita familiare, in una fase in cui già avevo fatto molte esperienze spirituali, direi, proprio di sensibilità... Quindi ti dico, io per esempio, dopo essermi dato appunto a questa visione del mondo prustiana, ho incontrato un altro autore che per me ha avuto un'importanza fondamentale ed è stato Robert Musil. Robert Musil, che nell'uomo senza qualità praticamente traduce in un'esperienza reale e concreta, secondo me alcune delle intuizioni più affascinanti di di Jung, per esempio. Io non so se tu hai letto l'uomo senza qualità e un anch'esso un mattoncino, ecco, rispetto a Proust, che è un mattone, mattonone, è un mattoncino forse, però è un mattoncino anch'esso. È un'opera pubblicata in due volumi e tra l'altro non è un caso che il secondo volume sia stato pubblicato a postumo. Perché? Perché Robert Musil nell'uomo senza qualità intanto fa un dipinge questa Austria Felix sulla via del tramonto con una efficacia entusiasmante per me, entusiasmante e anche un po' commovente. Vi dirò che io quando vado spesso a Vienna e ripercorro i luoghi di Ulrich dell'uomo senza qualità. Ma la cosa più interessante è che lui anche nel parlare di questo personaggio e degli altri personaggi che interagiscono con lui, per esempio Diotima, eccetera, in pratica come dire, invera alcune delle teorie di Jung. Il punto di arrivo di questo inveramento potremmo dire noi lo troviamo nel secondo volume postumo del suo romanzo. In questo secondo volume lui praticamente descrive quello che oggi potremmo, ah no, oggi ormai queste cose vengono accettate quindi non destano più in sdegno, ma praticamente nel secondo volume viene descritto in pratica l'innamoramento e l'amore di Ulrich, dell'uomo senza qualità, per la sorella. la sorella che lui non aveva mai conosciuto realmente fino al momento in cui con la morte del padre avevano dovuto incontrarsi per decidere dell'eredità che dovevano appunto gestire. Quindi questo è un testo che ci consigli. E questa cosa è interessante perché questa situazione che viene da Musil è praticamente la trasposizione su un'esperienza concreta della teoria di Jung secondo cui ognuno di noi ha un uomo ha un animus ma al suo animus corrisponde un'anima verso la quale lui tende. qui siamo in presenza di una situazione in cui Ulrich l'animus di Ulrich incontra la sua anima. Mi stai anticipando una domanda che mi tenevo di riserva proprio su questo argomento. No, 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 va benissimo. Il motivo per questo punto mi ha tanto entusiasmato un po' io sono un ammiratore e non ho nessuna difficoltà pur essendo italiano ad affermarlo con decisione della civiltà asburgica. Anzi non so se posso e se è il caso che lo faccia presente qui in questa nostra conversazione io ho avuto l'onore di conoscere personalmente Otto d'Asburgo perché Otto d'Asburgo era un membro del Parlamento Europeo del Partito Popolare Europeo e insieme a me diciamo è stato membro del gruppo di lavoro creato dal PPA proprio in quegli anni negli anni della dissoluzione dell'Unione Sovietica il gruppo incaricato di seguire gli avvenimenti che si producevano nell'Europa Centrale d'Orientale lui veniva spesso a queste riunioni e ci teneva ad interloquire per esempio con gli ungheresi con i quali parlavi in ungherese tra l'altro al tuo Otto d'Asburgo al tuo Otto d'Asburgo io posso rilanciare soltanto che mia madre Maria Rosenfeld è nata a Fiume quando Fiume era italiana ma figlia di una austriaca e di un ungherese quindi in realtà una classica famiglia austro-ungarica nel senso vero del termine era una civiltà quella che noi abbiamo distrutto purtroppo è vero senti tu hai scritto decine e decine di opere articoli saggi libri a quale oltre a quello che ci hai mostrato poco fa ti senti particolarmente legato e se ce l'hai per caso davanti mostraci la copertina comunque guarda senti io direi che il senso di tutto quello che ho fatto in un certo senso è sintetizzato in questo volume riflessioni del terzo dopo guerra del terzo dopo guerra interessante il sottotitolo non lo leggo abbastanza rise and will allora nascita e declino della terza chance della terza opportunità dove per terza chance uso questo termine terza chance con riferimento ad un classico della storia delle nazioni internazionali che ha come titolo second chance e che si riferiva al fatto che dopo il fallimento della società delle nazioni l'ONU avrebbe potuto essere la seconda chance di realizzare effettivamente un ordine internazionale rispettoso del diritto eccetera tutto questo per effetto della guerra fredda della frantumazione dell'alleanza antiteresca del 45 non fu possibile allora la terza chance poteva si delineava per effetto del tipo di accordo io ho fatto riferimento già questo quando abbiamo parlato prima con cui Gorbachev e Bush padre avevano praticamente concluso la guerra fredda questo apriva offriva una terza chance che praticamente è andata perduta grazie grazie senti tra le tante cose interessanti e importanti che hai fatto che stai facendo e che continuerai a fare e comunque a ispirare ce n'è una che ti stia particolarmente a cuore e della quale ti senti particolarmente orgoglioso? ma tu dici qui parliamo di una cosa che vorrei fare più che di una cosa che hai fatto una cosa di cui tu sia particolarmente orgoglioso dunque senti io a suo tempo come segretario generale della fondazione De Gasperi che avevo contribuito a fondare sono stato uno dei fondatori abbiamo realizzato un programma dell'Unione Europea inteso alla creazione di una nuova facoltà nell'Università di San Pietroburgo dove tu insegni regolarmente sì ma voglio dire intanto io stranamente non insegno in quella facoltà ti spiego meglio comunque diciamo l'obiettivo era quello di dar vita ad una facoltà di scienze politiche nella Università di San Pietroburgo e abbiamo lavorato per due anni e mezzo per raggiungere questo obiettivo grazie ai fondi dell'Unione Europea con un impegno di professori dell'Università di Bari dell'Università di Roma la Sapienza e dell'Università Cattolica di Milano cioè adesso c'è questa facoltà di scienze politiche a San Pietroburgo che è stata praticamente innestata la genesi di questa facoltà dalla nostra attività il caso vuole però che a San Pietroburgo esistesse già una facoltà di relazione internazionale cosa che noi non abbiamo naturalmente per cui io mi trovo adesso ad insegnare nella facoltà di relazione internazionale perché con quella con i colleghi di quella facoltà ho più dimestichezza e anche per un altro motivo perché detto francamente i ragazzi russi l'inglese lo sanno diffusamente eccetera eccetera però nella facoltà di relazione internazionale ci sono studenti che dal primo anno sono in grado di seguire le lezioni in inglese e neanche nella facoltà di scienze politiche c'è questa possibilità insomma di fare lezioni in inglese a studenti che ti seguono che ti capiscono tutti è interessante anche questa grazie senti ora però parliamo di te come persona virgolette normale anche come uomo insomma anche se indubbiamente affascinante quindi normale ma affascinante a prescindere dai tuoi ruoli professionali e familiari qual è il tuo segno zodiacale leone leone con chi è ascendente tutti che si vede chiaramente che il mio segno è quello eh beh ricercatissimo dall'altra parte senti il tuo ascendente quindi è il cancro cancro quindi leone ha proprio il classico pugno di ferro in guanto di velluto quindi sensibile come cancro ma leone insomma decisissimo e invece nell'oroscopo cinese che animale sei questo non lo so non mi sono preoccupato di questo dipende dall'anno di nascita 40 sì sì c'è una ciclicità di 12 anni per cui per esempio io sono cane ma lo troveremo senti ecco delle caratteristiche generiche diciamo generali del segno quindi leone e cancro ti ci riconosci ti piace quindi leone e cancro mi riconosco totalmente perché io finora tutte le cose che ho fatto le ho fatte sempre guidandole io capisci non ho mai i ruoli veramente gregari quindi c'è qualcosa che vorresti cambiare del tuo carattere oppure ti piaci così come sei no onestamente forse no può darsi pure che questo sia dovuto al fatto che sono che non sono sufficiente lucido nel vedere i miei limiti però io non cambierei niente interessante questa cosa qua a prescindere dalla tua specifica personale esperienza familiare matrimoniale insomma tornando a nascere ti consiglieresti come partner mi consiglieri come partner ad una marito come compagno di vita ma sì forse sì forse sì forse forse sì ricordati che ogni volta che c'è un ritardo di più di un secondo nella risposta vuol dire vuol dire hai già capito e diciamo come figlio invece tu figlio dei tuoi genitori beh io ti dirò che ritengo di aver approfittato troppo del sostegno che i miei genitori mi hanno dato e come amico ti consiglieresti come amico sì come amico sì perché non è che abbia avuto molti amici però però sì sì e come collega ah senza altro con i colleghi con un certo numero di essi non con tutti ma con un certo numero di essi ho un rapporto ottimo anzi noto che nel nostro settore molti miei colleghi non hanno amici mentre invece io sicuramente ho almeno tre o quattro amici che sono colleghi che sono anche amici proprio amici bello questo qui e come professore ti consiglieresti a uno studente ovviamente cioè sei un professore serio duro rigido oppure sei un professore morbido no no io non sono assolutamente un professore rigido io sono un professore che si ritiene in grado di accendere delle scintille delle luci ah bello questa cosa qua certo quindi accendere la potenzialità che c'è però però non sono uno che poi riesce a seguirli veramente lo confesso certo senti e nei tuoi vari ruoli qual è il principale pregio che tu stesso ti riconosci o che gli altri ti riconoscono beh la capacità di gestire dei team dei gruppi di lavoro ah la capacità di gestire dei gruppi di lavoro sei un manager della comunicazione non della comunicazione ma dell'operazione dell'operazione che poi l'operazione postuli anche una manifestazione verso l'esterno invece il tuo principale difetto che ti riconosci e che ti o che ti riconoscono beh se più che me lo riconoscono che me lo riconosca io mi viene rinfacciato continuamente anche per esempio da mia moglie che sono troppo impulsivo troppo esplicito non sono molto diplomatico quando tratto con la gente cioè dico quello che pensa in maniera piuttosto manifesta piuttosto evidente interessante questa confessione per un esperto di storia della diplomazia ma sai una cosa è la diplomazia una cosa sono i rapporti umani nei rapporti umani non sono diretto certo senti come probabilmente ricordi come sai io sono io personalmente io e Valdo sono un cultore del sapere iniziatico qual è il tuo rapporto qual è stato nella tua vita il tuo rapporto con il mistero col paranormale con l'esoterismo con la religiosità la magia hai mai avuto luccicanze o altre manifestazioni di sensitività mai voluto averci a che fare ti confesso che ho un cugino che casualmente poi ha il mio stesso nome e ha solo un anno e mezzo più di me con cui cioè adesso ci vediamo pochissimo perché io sto a Roma dove sta a Bari io mi muovo poco eccetera mi muovo poco da Roma dico però per molto tempo è stato uno delle persone con cui ero più vicino e con cui più diciamo mi confidavo se posso usare questa espressione e questo mio cugino queste cose le ha studiate piuttosto impegnativamente perché poi tra l'altro essendo anche lui un professore universitario chiaramente poi ha come dire trasferito anche a questo settore quel tipo di indagine no seria rigorosa che è proprio dell'indagine scientifica diciamo certo ecco e lui a un certo punto mi ha detto guarda io ho deciso di lasciar perdere perché perché nell'entrare in contatto con queste realtà si possono aprire delle porte che poi non si non si riesce a chiudere e quindi si rimane esposti a influenze che possono essere deteriori e questa sua conversazione come dire questa sua precisazione mi ha rafforzato nell'idea di non occuparmene di tenerle fuori dalla porta come si dice comunque nel tuo profondo così credi o ti piace credere per esempio l'espressione che io uso per quanto riguarda me stesso è a me piace credere in Dio a me piace credere nella reincarnazione come dire lascio perdere il fatto che sia vero o non vero insomma a me piace credere a te tu credi nella reincarnazione o comunque nella possibilità che esistano vite precedenti e quindi anche vite successive no io credo a una cosa che al di là della nostra vita c'è qualcosa di molto diverso che noi ci raffiguriamo in maniera molto molto antropomorfa certo questo è il nostro limite e c'è un argomento su cui appoggio questa mia affermazione cioè il punto è questo quando noi moriamo io penso che noi usciamo dal tempo perché come disse giustamente un padre della chiesa ben noto no Sant'Agostino l'eternità non è un tempo infinito ma è assenza di tempo assenza di tempo e quindi se noi usciamo dal tempo è l'attimo incalcolabile configurare con configurare un diciamo un mondo al di là che abbia le stesse caratteristiche del nostro cioè che sia che abbia una dinamica eccetera eccetera secondo me non è non è coerente perlomeno con quello che abbiamo accettato come messaggio per esempio da Sant'Agostino quindi io penso che le cose siano talmente diverse da come noi ce le possiamo immaginare che proprio la mia fede è affidarmi all'incognito insomma come diceva giustamente Wittgenstein come diceva Kant all'igno inconoscibile come diceva appunto giustamente Wittgenstein di tutto ciò di cui non si può parlare conviene tacere una cosa molto saggia senti e comunque qual è la tua idea nei riguardi del karma? ti confesso che faticosamente riesco a capire che cos'è il karma capisci quindi l'idea del come dire che le azioni del nostro passato soprattutto delle eventuali vite precedenti abbiano delle conseguenze in termini di contrapasso per così dire nella vita attuale o in quelle future ritenere che l'aldilà possa essere popolato e l'aldiquà anche sì però voglio dire cioè il nuovo aldiquà verrebbe dopo l'aldilà è certo ecco e allora questo ipotizza che l'aldilà abbia delle dinamiche esatto e ricordiamo alla tua risposta relativamente al tempo di prima senti invece scendendo ora ancora più nel personale nel veramente umano hai avuto qualche delusione nella tua vita e che lezione eventualmente ne hai tratto ti andrebbe di parlarcene ma senti io le delusioni che ho avuto da giovane da ragazzino sono state quelle diciamo sentimentali naturalmente ma non ho nessuna non ho difficoltà a parlartene perché erano il frutto di aspettative in quel momento irragionevoli e di un mio essere assolutamente come dire rispetto all'ambiente in cui io mi sono mosso fino ad una certa età io ero una cosa talmente diversa che praticamente non potevo avere rapporti veramente ero ingenuo ero in plume insomma e comunque mi sembra di capire che tu sia d'accordo con quella che è la nostra idea cioè che si rimane delusi solo perché in precedenza c'eravamo virgolette illusi quindi o autoingannati o eravamo stati ingannati insomma quindi illusi di aver capito l'ambiente il contesto no ma insomma le mie delusioni non aver capito che io ero troppo diverso dall'ambiente nel quale mi muovevo e dal quale cresci senti e invece hai qualche rimpianto per non aver magari fatto qualcosa che forse avresti potuto e dovuto fare sì ma ammesso pure che l'abbia non ne sono consapevole non so se mi sono spiegato cioè in questo momento se mi viene 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 ammesso che io ce l'abbia non ne sono consapevole sei un genio sei e allora a questo punto passiamo direttamente all'altra e ti la sentiresti di confessarci qualche eventuale rimorso per aver fatto qualcosa che sai bene che non avresti dovuto fare? la carta della la carta della non consapevolezza ti ricordo che te la sei già giocata no 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 ti dico questo che una volta nei confronti di una ragazza sono stato così cattivo che poi me ne sono pentito e per espiare che tu ci creda o meno ho fatto un pellegrinaggio per me molto scomodo molto faticoso all'ultimo ti può sembrare strano ma assolutamente io a quel tempo cioè no a quel tempo sono sempre stato abituato a muovermi con una certa comodità ma a quel tempo mi imposi di andare a Lourdes in treno in seconda hai capito? noi chiamiamo questo tipo di cose autopenalizzazioni partire da Bari in seconda non so quante ore di treno fino a Milano cambiare treno a Milano per non so dove poi dopo ancora per Lourdes tutto in seconda ti assicuro che è stata una come dire una penitenza che io ho scelto di fare a quel tempo per espiare questa cattiveria vabbè forse avrò anche esagerato però benissimo bello grazie di una espiazione che ho fatto grazie di questa testimonianza senti ancora oltre che scrivere libri tu a quale musa ti sei affidato hai dipinto quadri scolpito statue composto musico canzoni ideato stesure teatrali diretto film elaborato danze no ti confesso che no cioè oltre a scrivere libri tra l'altro più o meno scientifici di politologia ho sempre accarezzato il sogno che non attuerò mai di scrivere la continuazione del gatto pardo cioè praticamente il gatto pardo si ferma al diciamo al primo novecento io avrei voluto scrivere una storia che seguisse naturalmente la crisi poi di questi ovviamente con lo stile tuo ma fondamentalmente ricalcando come dire le atmosfere del del Tomasi di Rampedusa insomma esatto esatto bello questa cosa non ho mai avuto il tempo di farlo veramente va bene non è mai troppo tardi come si dice e in qualche modo mi hai anticipato un'altra domanda che ti farò dopo e ti sei mai cimentato nella poesia hai mai scritto poesie ho scritto delle belle poesie che però sono andate tutte perdute quale quali artifacts per sì ne ho scritto anche una bellissima in inglese dai tua sì e questa ce la devi dire no e che ce la devo dire non me la ricordo ancora non te la ricordi dai declamacela no no ma ti assicuro che se me la ricordate un tuo verso almeno un verso guarda ma è andata persa proprio non so neanche dove posso dove l'ho scritta dove dove cercala sarà un impegno per il nostro prossimo incontro ti piace cucinare le ho scritte comunque in passato però le devi ritrovare non puoi come si dice ci fai assaporare il piacere però poi non ce lo fai assaggiare senti ti piace cucinare visto che parliamo di sapori non so cucinare sai cucinare no non so cucinare ah tu sai cucinare però sicuramente avrai un tuo piatto speciale non necessariamente quindi è pensato da te guarda che potresti suggerire a un eventuale un piatto speciale che ti piaccia particolarmente che potresti suggerire a un eventuale corteggiatrice che decida di invitarti non so perché ti dirò il piatto cioè il mio la cosa che mi dava più piacere a tavola quando si poteva viaggiare era il breakfast la mattina in albergo ah ma sei proprio siamo gemelli in un'altra vita siamo stati gemelli esatto ma adesso non è che voglia spandere però normalmente mi capitava di andare in alberghi a quattro stelle e mezzo cinque insomma quindi puoi immaginare che in un albergo di quel livello il buffet fosse di un certo tipo ecco per me approfittare di quel buffet era il maggiore godimento possibile anche perché non c'è niente più bello di avere poi davanti una giornata magari di occasioni interessanti perché se tu sei in albergo all'estero eccetera eccetera evidentemente ci stai per fare qualcosa interessante cominci la giornata sarà come minimo al livello della breakfast della colazione nell'albergo della mattina diciamo con il giusto buffet è assolutamente impagabile senti e con che tipo di bevanda ti piace pasteggiare ami il vino ed eventualmente che tipo di vino a me il vino dove per normale intendo anche vino non so pianti seristori anche di vini pugliesi eccellenti ce ne sono tantissimi naturalmente a me il vino normale anche eccellente piace poco ogni tanto capita un tipo di vino che ha un gusto particolare e ti dirò che recentemente proprio in Puglia ho scoperto un vino localissimo che si chiama frutti rossi frutti rossi frutti rossi si chiama di una bontà guarda me ne sono bevuto quasi un litro io normalmente bevo pochissimo mi devi credere ma pochissimo proprio ma quella sera me ne sono bevuto quasi un litro bene andremo alla ricerca molto buono lo bevo ma raramente trovo un vino che veramente mi piace anche se è un vino che ha una reputazione di essere ottimo eccetera bene senti e qual è il tuo rapporto col peperoncino e comunque con le spezie con il peperoncino e con il peperoncino ah no dunque allora per me il top è il curry io quando una volta a Cambridge mi ricordo che questo è avvenuto a Cambridge perché se posso raccontarlo rapidamente normalmente io ero lì per studiare in college per studiare l'inglese naturalmente ero molto giovane e normalmente questi college il sabato portavano in gita i loro studenti e un anno capitò che la gita fosse in un posto che avevo già visto la compagnia mi interessava più di tanto quindi mi rimasi in città a Cambridge e mi andai in giro per il centro di Cambridge mi ricordo di fronte all'ingresso del St. John's Hotel College c'era la porta di un ristorante indiano dove non ero mai stato nota in un ristorante indiano e dissi vabbè proviamo come provai il curry ritenni di aver praticamente scoperto un altro mondo fu amore a primo gusto il curry è una cosa assolutamente impagabile è il piatto più buono e più gustoso che esista per me il curry anche se il cino poi naturalmente anche nei piatti nostri lo metto abbondantemente insomma bene e hai introdotto quindi piatti esotici nella tua cucina abituale certo ti ho detto quindi il curry lo troviamo anche venendo per caso a pranzo da te lo troviamo tra l'altro mia moglie lo conosce perché una sua zia è stata in India per parecchio tempo e quando la moglie che se non vado errato è abruzzese esatto la mia seconda moglie eh sì però c'è da dire questo che questa componente di mia moglie è abruzzese è per l'esattezza ortonese cioè Ortona è stato in passato adesso vabbè è un porto ma in passato è stato uno dei porti più importanti dell'Adriatico Ortona e quindi c'era questa cultura diciamo di proiezione anche lontano per intenderci dai confini nazionali e quindi questa sua zia è stata col marito in India per un po' di tempo e quando è tornata ha portato tutta questa cultura anche culinaria diciamo indiana che ha diffuso con le sorelle e quindi anche mia moglie per esempio sa fare un ottimo piatto di riso fritto al curry buono a sapersi allora senti tu come uomo hai conosciuto come dire tante realtà tanti cieli ma in fondo hai già risposto ma te la rifaccio come domanda credi nell'amore a prima vista e ai cosiddetti appunto amori carmici le anime gemelle le fiamme gemelle secondo me l'unico amore vero è quello a prima vista l'unico amore vero è quello a prima vista quell'amore che estrense con furore esatto e che la vista degli occhi è a nascimento quindi sei un romantico tipo dolce stil nuovo un amore che non finisce cioè nel senso che una volta che tu a prima vista ti sei innamorato di una donna quella donna ti piacerà sempre non è detto che la amerai sempre ti piacerà sempre sono d'accordo amare concetto di amore è un concetto complesso dobbiamo capirci dobbiamo capirci certo certo senti Oriente, Africa, Australia Asia, America Europa chissà quanti paesi hai visitato in quale paese il tuo squisito fascino italiano e addirittura meridionale pugliese insomma dal 1700 tal dettaglio ha avuto più successo e in quale paese hai trovato particolarmente amabile e seducente il modo di essere corteggiato guarda sono in dubbio nel risponderti tra Russia e Ucraina ammesso che questi due paesi si possono considerare due paesi diversi certo e anche le repubbliche del nord probabilmente del baltico no no ok senti no no vabbè vai avanti dunque hai qualche aneddoto da raccontarci della tua vita ma senti guarda scusa una delle cose ma non è un aneddoto vero insomma una delle cose di cui sono più orgoglioso sono le due volte in cui Otto d'Asburgo incontrandomi di fronte a quei magnifici buffet dell'hotel metropolo di Bruxelles che tra l'altro adesso pare abbia chiuso definitivamente purtroppo mi ha invitato a sedere al suo tavolo per fare colazione con lui queste sono le due occasioni che ricordo la prossima volta che ci vedremo voglio toccarti per poter come le reliquie la reliquia per passaggio e così via senti ti va di condividere con noi un eubiotico aforisma cioè un aforisma di buona vita tuo inventato da te o di altri o un mantra o una preghiera che puoi aver trovato preziosi per affrontare e superare dei momenti difficili della tua vita mi dispiace ma non penso di averne non hai mai detto mamma mia aiutami oddio mio Gesù Maria per dire insomma non mi sono no io sono una persona piuttosto fredda anche di fronte alle difficoltà viene fuori il leone forse senti ce l'hai già suggerito però ridillo potresti suggerirci il titolo di un libro oltre a quelli scritti da te naturalmente però ricita quelli che hai già detto Jung Proust Musil e così via che siano stati che siano stati particolarmente importanti per la tua crescita e la formazione umana senti guarda non voglio ripetermi perché appunto ridilli 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 l'uomo senza qualità di Musil l'uomo senza qualità di Musil cioè in una prima fase della mia giovinezza potrei dire il mio livre de cheuvet come lo chiamano in francese il libro che si tiene sul comodino era la ricerca del tempo perduto di Proust e in particolare l'ultimo volume il tempo ritrovato che per me è un'opera di poesia in prosa il tempo ritrovato è inizionale ma quando poi ho scoperto Musil praticamente Musil nella mia sensibilità ha preso il posto di Proust e per me il libro più importante ma più come dire che rende che rende la sostanza diciamo dell'intellettuale europeo con la E maiuscola per me è l'uomo senza qualità di giusto e tra l'altro è un intellettuale europeo che avrebbe dominato se non si fosse dissolto l'impero austro-ungarico certo certo senti c'è un film o un'opera teatrale che ci consiglieresti perché in grado di darci una preziosa lezione di vita impresso pur attraverso gli anni è stato i quattro cavalieri dell'apocalisse di Vincent Minnelli che praticamente è ambientato fondamentalmente nella Parigi occupata negli anni 42 43 no? il protagonista è un argentino un intellettuale argentino con una grossa sensibilità intellettuale diciamo che rimane distante un po' da tutto il conflitto in una prima fase chiaramente non parteggiando per gli occupatori per i nazisti ma nello stesso tempo tenendosi un po' diciamo a distanza dai due campi sennò che poi alla fine decide di schierarsi dalla parte diciamo dei democratici delle democrazie della resistenza e perisce in un attacco aereo appunto purtroppo alleato senti c'è una canzone che ti sia rimasta particolarmente impressa che magari ti sorprendi ogni tanto a canticchiare quella di aspetta come si chiama canticchiala quella di ma no ma sai purtroppo siccome pratico poco queste cose comunque la canzone mi ha mandato assolutamente comunque forse ti ricorderai anche questa però c'è un'altra che mi piaceva di più cin cin con gli occhiali te la ricordi? sì credo di sì non ricordo ora il motivo però sì la frase me la ricordo facciamo cin cin con gli occhiali qualcosa del genere? sì anche tu aspetta con comunque facciamo cin cin con gli occhiali sì qualcosa del genere devo mettere la spina del computer se no si scarica un momento un attimo solo sì sì ci dobbiamo far spiegare cosa sia questo bellissimo quadro alle spalle di Anton Giulio De Robertis questo viene chiaramente senti te con Tumace abbiamo avuto la possibilità di ammirare il quadro alle tue spalle sì che rappresenta? dunque è una scena della Maria Stuarda cioè praticamente è una scena del del giudizio chiaramente della corte inglese della della sorella assassina perché la farà assassinare come la farà appunto del di Maria Stuart che chiaramente veniva percepita da Elisabetta come una minaccia alla sopravvivenza più che di se stessa dell'anglicanesimo certo perché Maria Stuarda era cattolica ed è uno dei quadri della casa di mia nonna che naturalmente mi ha seguito qui a Roma bene senti hai qualche personaggio oltre ai tuoi genitori naturalmente che sia stato di particolare ispirazione nella tua vita come mentore come insegnante come esempio da imitare o al limite al contrario proprio da non imitare non autori ma personaggio tuo contemporaneo vivente Ottavio Barriè che è stato professore di storia di storia internazionale all'Università Cattolica di Milano è il professore con cui cioè io dico spesso che dopo una prima fase in cui mi è stato insegnata la grammatica della ricerca di storia diplomatica poi ce n'è stata una seconda in cui mi è stata insegnata insegnata la sintassi e la sintassi me l'ha insegnata Ottavio Barriè con il quale bene o male ha avuto inizio quella che insieme all'attuale professore di storia di trattati della Cattolica Massimo De Leonardis ha avuto inizio quella che noi chiamiamo la scuola storica di analisi delle relazioni internazionali perché l'analisi delle relazioni internazionali normalmente viene fatta da gente che la storia non la sa se invece la fanno gli storici allora un altro taglio giustissimo senti siamo in conclusione facendo il bilancio della tua vita e passando in rassegna tutte le varie aree esistenziali quindi la famiglia all'origine la famiglia acquisita la vita affettiva e sessuale la realizzazione professionale l'autostima e i valori intimi e intrinseci sulla persona quale consideri il tuo più grande successo nella tua vita? tutto sommato poi alla fine il più grande successo è stato il mio matrimonio e il rapporto con mia moglie con la mia attuale moglie ma è una sola quindi non sei stato ripetente come me eh sì quindi il matrimonio il rapporto con tua moglie è molto bello questo che dici senti c'è hai ancora hai un obiettivo che forse purtroppo magari per motivi banalmente anagrafici hai inesorabilmente mancato cioè qualcosa che volevi fare raggiungere purtroppo ormai come si dice non potrei più almeno in questa vita io non posso dire di aver avuto un obiettivo diciamo che io per molto tempo ho fatto praticamente il diplomatico di partito no? nel senso che mi occupavo di politica internazionale non a livello di rapporti di governo di governi ma a livello di rapporti fra partiti che a livello europeo è una cosa importante nel PPE i rapporti tra i partiti avevano un loro peso e un loro significato quello che mi duole è che non sarà possibile che io mi occupi di questo in un PPE che abbia ritrovato secondo me la sua vera strada perché in questo momento il PPE è troppo sbilanciato a sinistra e non è quella la posizione che dovrebbe avere certo è il problema dell'eccessiva eterogenità all'interno di una compagine di qualsiasi ma non è solo questo non è solo questo è anche è anche la scelta che hanno questo è un discorso molto lungo comunque in ogni caso Cole è stato tradito cioè l'eredità di Cole è stata tradita certo va beh ne riparleremo più diffusamente senti hai già compilato la tua personale bucket list le cose che vuoi assolutamente fare prima di uscire dalla scena di questa vita no ah e che aspetti forse perché irresponsabilmente non ti ritieni immortale no ma non non mi sto preparando ad uscire insomma il che forse no ma anche perché ti dico sinceramente io spero e sto preparati siete pronti no ma vedi questo è il punto io quello che mi auguro è che mi possa capitare di abbandonare questa vita all'improvviso senza quasi rendermene conto quindi magari se si potesse firmare un contratto per questo sarei il primo a farlo senti e quindi visto che stiamo parlando di questo qual è il tuo atteggiamento nei riguardi della sora nostra morte corporale come diceva San Francesco ma io ti ho detto vedi questo è il punto sora nostra morte corporale si può ci sposta in una chiamiamola realtà talmente diversa da quella in cui viviamo che non provo neanche ad immaginarla cioè so solo che è enormemente diversa no no ma bisogna pensarci perché accadrà in questa vita quello che accadrà dopo non lo sappiamo ma in questa vita guarda io tiro una cosa adesso non so se è il caso io penso di aver avuto un momento della mia vita in cui ho capito come morire non perché sia morto ma perché ad un certo punto stavo così male in una certa situazione che sono svenuto e siccome in quel momento avevo dolore ai reni ero tutto quanto indolenzito nel corpo no mentre svenivo ho avvertito che questa dolenzia progressivamente si ritirava dal mio corpo cioè lasciava le gambe lasciava il ventre lasciava le reni capisci ed era praticamente un sollievo il fatto che questo fosse finito hai vissuto un'esperienza quasi paranormale per cui ti dico che non ho cioè diciamo che la morte mi addolora più per il fatto che devo abbandonare dalle persone che mi sono care che perché tema per me stesso non sei come Nerone che diceva quali sartifex pereo quale grande artista muore con me ascolta con quale obiotico augurio con quale augurio di buona vita con quale frase significativa ci vorresti salutare per essere da noi da tutti noi incisivamente ricordato chissà per l'eternità io vi saluto ringraziandomi per l'attenzione che mi avete dedicato per gli stimoli anche mentali che mi avete insomma indirizzato e quindi dico che vi ringrazio bene allora grazie ad Anton Giulio De Robertis e buona vita a tutti naturalmente da Roma e che Dio e l'universo ci benedicano e per finire 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 veramente viva Anton Giulio e chi lo invitò ecco appunto viva Evaldo viva Evaldo grazie professor De Robertis buona vita ci vedremo presto ciao 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 ciao